Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV fine settimana da bollino rosso quello che si sta per aprire per il traffico sulle strade comprese quelle che percorreranno molti aretini in occasione dell'ultimo weekend di luglio dunque si prevede un significativo incremento della circolazione verso le principali località di vacanza. Per agevolare gli spostamenti è previsto il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di domenica. Intanto dal Dipartimento della Protezione Civile arrivano delle raccomandazioni perché ad esempio per sabato 29 luglio si prevede lo sviluppo di rovesci e temporali più importanti quindi con caratteristiche più accentuate e più intense. Quindi insomma c'è da fare attenzione non solo per il traffico ma anche appunto per le condizioni del meteo. Incidente stradale in autostrada del sole all'altezza del casello Valdichiana in direzione sud si è verificato poco prima di mezzogiorno causando lunghe code a partire dal chilometro 387. Si è trattato di un tamponamento a catena con quattro automobili coinvolte al seguito del quale appunto si sono formati degli importanti incolonamenti perché insomma come dicevamo appunto chi parte per le vacanze lo fa proprio in queste ore. Parliamo adesso di un nuovo attacco dei lupi ad un greggio. Noi siamo andati da questo allevatore che si trova in Valdarno ma intanto c'è proprio l'intervento della CIA di Arezzo che appunto segnala questo fatto. E soprattutto ricorda del bando regionale che è stato messo a disposizione degli allevatori che hanno subito degli attacchi. Altri 400 mila euro è indubbiamente una cifra positiva spiega il direttore della CIA di Arezzo Massimiliano Dindalini a un ulteriore tassello della politica di sostegno. Per tanti imprenditori naturalmente la cifra è importante ma è appunto ancora insufficiente per tamponare questo problema davvero molto serio come ricorda ai nostri microfoni appunto questo allevatore. A 15 metri il lupo è arrivato e ha preso una l'ammazzata e un attimo ti volti lo sguardo 5 minuti e qui siamo circondati. Attenti al lupo citando Lucio Dalla qui nel Valdarno a Retino cresce infatti la preoccupazione questa azienda agricola di terra nuova a bracciolini da inizio anno ha subito ben 15 attacchi l'ultimo solamente pochi giorni fa. Con circa una ventina di animali uccisi, animali sia adulti già in produzione sia animali giovani aggredirlo, ammazzarlo è inquietante vederlo con i nostri occhi così vicino e così letale, è un attimo. A questo poi si aggiunge il danno subito da tutto il gregge. Gli animali sono stressati quindi gli animali che producono latte perdono, cala la produzione di latte e per noi che siamo un'azienda, il nostro core business è il caseificio, vuol dire un calo del fatturato insopportabile. Impossibile difendere gli animali dall'assalto dei lupi, impossibile continuare ad allevare soprattutto allo stato brado. Non possiamo più tenerli liberi perché 10 minuti senza essere accuditi noi si torna giù e troviamo l'animale morto, scannato. Non si cerca di fare un'agricoltura tradizionale, ecosostenibile ma in cambio abbiamo niente. A tendere una mano agli allevatori la regione toscana con un bando che ha messo a disposizione 400 mila euro per gli attacchi subiti. C'è un indennizio per ogni capo abbattuto dal lupo ma non riconosce tutto quello che c'è poi a valle di questo. Un appello disperato che non vuol puntare però il dito contro il lupo. Nessuno di noi si permette di mettere in dubbio il diritto del lupo a esistere, cioè il pianeta non è il nostro. Io sono il primo a difendere il diritto del lupo a popolare ma il mio diritto di imprenditore agricolo, di condurre la mia azienda, chi lo garantisce? Parliamo dell'accoglienza migranti. Ieri in consiglio comunale c'è stata una polemica sollevata proprio dai banchi della maggioranza, in particolar modo da parte della Lega, che ha fortemente contestato la scelta della fraternità dei laici e di conseguenza del comune di Arezzo di appunto accogliere 14 migranti in una struttura che si trova tra l'altro in Val di Chiane. Allora su questo avevano già risposto il vice sindaco di Arezzo e il sindaco stesso Alessandro Ghinelli in una nota. Questa sera sentiamo proprio ai nostri microfoni Lucia Tanti. Vice sindaco avete con una nota congiunta tra lei e ovviamente il sindaco Ghinelli manifestato questa disponibilità al richiamo tra l'altro in una situazione di emergenza che aveva fatto il prefetto con una riunione in prefettura ma soprattutto avete addirittura ringraziato la fraternità per questa disponibilità. È uno strappo alla regola nel senso che Fraternita dal 2015, su indicazione del sindaco Ghinelli di allora e quindi di ora, è uscita dal circuito dell'accoglienza. Oggi è una situazione estremamente urgente e fa parte di una particolare condizione di emergenza umanitaria quindi Fraternita non rientra nel sistema dell'accoglienza, ci rientra in questo particolare momento in maniera molto circoscritta perché nel 2023, cioè ora, rispetto allo scorso anno ci sono il 150% di sbarchi in più, 50.000 circa persone che sono sbarcate o stanno sbarcando nel nostro paese, 3.500 in Toscana, 350 nella provincia di Arezzo. Allora, di fronte a un prefetto che a sua volta ha ovviamente un input a livello nazionale che chiede un atto di responsabilità, quindi per noi una deroga rispetto a una regola, è chiaro che le istituzioni rispondono di sì. Che per la Fraternita i numeri si fermino qui, mi sembra chiaro. Per il territorio invece del Comune di Arezzo avete individuato, pensate di individuare altre strutture, altre sistemazioni? Noi abbiamo seguito l'indicazione del prefetto che peraltro era stata data anche a livello di prefetti di tutte le province, dei sindaci di comuni capoluogo dove i comuni avrebbero in qualche modo sollecitato in maniera attiva, senza essere protagonisti in questo, anche altri luoghi dove poter accogliere queste persone che, ripeto, arrivano. Vorrei evitare di fare quello che è successo a Pelago, cioè di mettere le tende, Pelago è un comune della provincia di Firenze, se non ricordo ma mi pare Pelago. Quindi non si tratta di decidere se sì o se no, si tratta di decidere come rispetto a un quantitativo che potrebbe oscillare intorno a 350. Quindi il Comune ha dato una disponibilità eccezionale con Fraternita che finisce qui, ma che è quella e non si tocca. Rispetto al resto saremo protagonisti in maniera indiretta ma certamente presente per trovare nuove soluzioni che siano fuori dal circuito di Fraternita, ma soprattutto per trovare risposte che affianchino i gestori nella presenza di queste persone con la finalità di una presenza che sia la più breve possibile e finalizzata laddove c'è necessità ad un rimpatrio. Non comunali, non fraternita, nel tessuto della città, però questo è più facile che un vecchio gestore ce li abbia piuttosto che il Comune. Una cosa, l'ho detta l'altro giorno da una riunione che ha fatto il Comune di Arezzo, successiva a quella fatta col Prefetto, non un euro in meno ai bisogni degli aretini, cioè questa per noi è un'emergenza internazionale di tipo umanitario, non sono politiche sociali. Doppio intervento dei vigili del fuoco di Arezzo fra la tarda mattinata di oggi e il primo pomeriggio. Sono stati due gli incendi dove sono dovuti intervenire, uno nella boscaglia di Bogognano, nel territorio comunale di Subbiano, l'altro invece un annesso agricolo a Montagnano, frazione di Monte San Savino. In entrambi i casi il tempestivo arrivo dei mezzi e degli uomini dei vigili del fuoco ha scongiurato conseguenze più gravi. E' una bocciatura un po' su tutta la linea, quella della Fondazione Gimbe, riguardo lo stato della sanità pubblica. Il Servizio Sanitario Nazionale non sta benissimo, è un po' un paziente con diverse patologie. Un caso grave di comorbidità e cronicità. E' con questa metafora che la Fondazione Gimbe ha descritto la sanità pubblica ad Arezzo, nel corso dell'incontro a ruota libera, un focus sullo stato di salute del sistema sanitario nazionale. Proprio perché è un malato cronico con patologie multiple va curato con un approccio multispecialistico e multifattoriale e quindi ci vuole una visione di insieme che ovviamente ha dato un po' l'idea di questo a ruota libera. La sanità pubblica, secondo la Fondazione, oltre ad essere un malato affetto da tante patologie croniche, dal sottofinanziamento pubblico alle criticità con il personale sanitario, dagli sprechi alle problematiche di governance, Stato-Regione si troverebbe a vivere in un ambiente poco favorevole alla sua guarigione. Io credo ci sia bisogno di una giusto divisione perché se noi decidiamo quale sanità vogliamo lasciare in eredità alle future generazioni è molto più facile capire quanti soldi servono e che tipo di riforme vogliamo fare. Se la lasciamo invece alla cosiddetta manutenzione ordinaria ne perdiamo un pezzo dopo l'altro perché è da tanti anni che non ci si prende cura del Servizio Sanitario Nazionale poi durante la pandemia c'è stata questa grande esplosione, questo interesse da parte di tutte le forze politiche però passata l'emergenza di fatto siamo tornati a quella manutenzione ordinaria che non ci permetterà di recuperare il gap con gli altri paesi. La Toscana invece è al secondo posto, subito dietro all'Emilia Romagna per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale eroga gratuitamente o soggette al pagamento di un ticket. Va detto però che tutte le regioni, anche quelle che stanno in cima alla classifica, soffrono perché comunque c'è una quota di definanziamento pubblico che non riescono a recuperare cioè i soldi sono sempre di meno e quindi o si tagliano i servizi se non arrivano i soldi oppure servono dei maggiori finanziamenti. È scomparso in queste ore Franco Casi, ultimo testimone dei giorni della Chiasa il rastrellamento e la segregazione nella chiesa parrucchiale del paese che si trova alle porte di Arezzo ad opera dei soldati tedeschi di centinaia di civili pronti ad essere trucidati se non fosse stato riconsegnato un colonnello delle SS. Come ricorda lo storico Santino Gallorini in un post proprio sui suoi social solo il grande coraggio di Gianni Mineo coadiuvato da Giuseppe Rosadi portò alla restituzione del colonnello e alla liberazione degli ostaggi. Come dicevamo insomma è scomparso uno degli ultimi testimoni oculari. Adesso invece parliamo di turismo. È un po' presto per pensare alle festività natalizie anche se insomma coloro che non amano il caldo forse lo fanno volentieri ma tant'è nelle scorse ore c'è una novità che riguarderà proprio appunto la città del Natale che come sappiamo ogni anno affolla il centro cittadino ovvero un autobus turistico da 20 posti che permetterà proprio ai visitatori di scoprire la città e le sue bellezze. L'autobus ha raggiunto proprio Arezzo da Orvieto nelle scorse ore ha suscitato anche non poca curiosità ovviamente tra coloro che lo hanno visto transitare tra le vie del centro storico si trattava sostanzialmente di una prova come ha spiegato l'assessore al turismo Simone Cherici prova che appunto si sarebbe svolta positivamente quindi probabilmente lo vedremo nelle vie appunto di Arezzo per la prossima edizione della città del Natale. Una mostra che prenderà il via nella primavera del 2024 era la ragione della visita del sottosegretario al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi in queste ore a Sansepolcro ma poi insomma si è soffermato sul cosiddetto Piero della Francesca dimenticato San Sebastiano che appunto secondo il noto critico d'arte è assolutamente da attribuire proprio a Piero della Francesca. Il fondo non lo riconosciamo ma per fortuna insieme all'area di un sottosegretario senza frecce che quindi sanguina in cui c'è una compostezza classica che è disturbata dalla sofferenza quindi solo Piero della Francesca può intendere come una figura che riproduce un Apollo un simbolo di bellezza maschile sia torturata dalla violenza e quindi indica il sangue che ne esce ma poi salendo vede questo meraviglioso risalto, questa testa perché non c'è alcun dubbio che sia di Piero della Francesca per disegno, per concezione, per ispirazione guardiamo come tiene succhiuta la bocca per il motivo dei capelli ricci Il sottosegretario al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi all'interno del Museo Civico di Sansepolcro parla del San Sebastiano a fresco staccato attribuito ad un anonimo del XVI secolo che secondo Sgarbi è invece opera di Piero della Francesca e dei suoi stretti collaboratori Per cui io ho accettato, pur avendola indicata che è di Piero della Francesca e sicuramente è di Piero della Francesca l'ipotesi di qualche collega che come addirittura ad Arezzo nella chiesa di San Francesco nell'istoria della vera con luce ci sia l'intervento di Giovanni da Piamonte di Valentino da Arezzo che sono i suoi allievi ora che qualche allievo abbia lavorato è possibile è anche difficile dire per lo stato di conservazione però alcuni motivi come la decorazione del perizoma di grande raffinatezza e soprattutto il volto la bocca socchiusa, quelle labbra che vediamo sono di un disegno così assoluto che non c'è alcun dubbio che l'idea venga da un suo cartone da un suo disegno e sia di Piero della Francesca Il motivo della visita in Valtiberina era quello di gettare le basi per un progetto artistico che legherà Sansepolcro a Monterchi, Citerna, Castiglionfiorentino e Cortona Sarà l'arte di Piero della Francesca, del Signorelli, di Bartolomeo della Gatta e di Donatello a fare da filo conduttore in questo percorso che creerà un cammino artistico suggestivo sia per le opere che ne saranno protagoniste sia per la città e i territori coinvolti nell'entroterra toscano La mostra prenderà il via nella primavera di 2024 Lucignano incanta Secret Garden Picnic un grande apprezzamento per la nuova location Piazza del Tribunale durante la serata enogastronomica che ha visto far godere appunto a tutti i partecipanti musica, buon cibo e appunto tanta convivialità in uno dei borghi più belli d'Italia Quest'anno il nostro Secret Garden viene proposto nella magnifica Piazza del Tribunale devo dire che è una serata particolare, magica la nostra parte più bella forse allestita con delle bellezze impressionanti è veramente una serata magica un ringraziamento straordinario a Stefano Cresti l'assessore al turismo perché ne è l'idiatore e a Enrica Cassioli la responsabile dell'ufficio turismo per lo straordinario lavoro e tutti quanti i dipendenti del comune che lavorano per ogni di giovedì la nostra rassegna continua il prossimo di giovedì sarà la serata del jazz e davvero Lucignano è magia e Lucignano è uno scrigno e quindi benvenuti tutti quanti a Lucignano questo è una parte della nostra forza che è quello di coinvolgere tutti tutti devono essere attivi e partecipi a queste serate dei giovedì nelle diverse forme quindi ringrazio tutte le attività e le associazioni che partecipano a questo evento ma questa sera è una serata particolare perché è da molto tempo che ci tenevo che fosse fatto qui il Secret Garden in questa specifica location che è meravigliosa meravigliosa perché ci lascia a bocca aperta ringrazio tutti coloro che collaborano a questo evento è una serata speciale per un borgo che accoglie dobbiamo accogliere sia chi vive nel nostro luogo e vicino a noi ma soprattutto i tanti turisti che partecipano e vengono a queste serate porteranno a casa un pezzo d'Italia autentica vera in uno dei borghi più belli d'Italia fantastico come un evento a New York veramente bel fatto è molto bello così in un centro di un villaggio storico parto domani ma ritorniamo fino agosto sì sì tutti gli giovedì perché mi piace molto questa idea di avere una festa un villaggio l'Arezzo Smart Festival presenta uno tra i suoi eventi più attesi il concerto del cantautore Paolo Benvenu finalmente live ad Arezzo con brani del suo ultimo lavoro discografico Solo Fiori insieme a quelli che hanno segnato la sua ormai trentennale carriera l'appuntamento è fissato per mercoledì 2 agosto all'Arena Eden di Arezzo ci spostiamo adesso a Monte San Zavino per il Festival delle Musiche 130 studenti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero stanno seguendo le masterclass che animano il cuore antico della città è così tornato il Monte San Zavino Festival che offre a giovani musicisti la possibilità di lavorare al fianco di insegnanti qualificati in luoghi suggestivi e ricchi di storia come teatri, piazze e antiche dimore l'importanza delle masterclass estive è fondamentale soprattutto per i ragazzi che intendono poi continuare gli studi in maniera professionale perché è un periodo diciamo così di lezione nel senso che non ci sono gli impegni universitari gli impegni in conservatorio o per chi frequenta i licei musicali gli impegni scolastici quindi c'è molto tempo c'è molta disponibilità anche mentale e quindi è un momento ideale per dedicare tempo, energie e il massimo impegno a questa attività Tante anche le iniziative originali come il programma Music Lab un laboratorio di musica d'insieme per strumenti ad arco rivolto ai giovanissimi dei 7-12 anni realizzato in collaborazione con la scuola di musica Cappetti Abbiamo allievi che vengono proprio dalla nostra scuola ma anche altri che vengono da fuori quindi è stata un'occasione molto ed è un'occasione molto importante per coinvolgerli tutti insieme Sabato 29 luglio la consegna delle borse di studio e poi alle 21.15 nella centralissima piazza Gamurrin il concerto dell'orchestra Gamme Sambla che ospiterà anche alcuni talentuosi studenti delle masterclass È bello anche il modello che prevede comunque l'inserimento anche di concerti nell'ambito del periodo concerti anche con musicisti e orchestre soprattutto orchestre che vengono da fuori non tutti i festival o masterclass consentono anche questa possibilità Domani l'evento conclusivo di In Danza in Arte che ha portato ad Arezzo tanti giovani danzatori Audizioni, spettacoli e borse di studio per il gran finale del campus internazionale In Danza in Arte 80 danzatori e danzatrici sono arrivati da scuole di tutta la penisola e stanno condividendo una settimana di studio formazione e specializzazione nella città di Arezzo È stata un'edizione vincente sia dal punto di vista di numeri e anche come qualità sicuramente anche di professionisti e di numeri di partecipanti perché abbiamo tanti allievi che vengono da tutta Italia Sabato 29 luglio lo spettacolo conclusivo nella sala vasariana è l'audizione per il cab collettivo Arezzo Ballet mentre le prime giornate del campus sono state scandite da lezioni dedicate alle diverse discipline coreutiche primo appuntamento con la danza moderna e contemporanea Stiamo lavorando sulla coreografia e allo stesso tempo sulla tecnica quindi usiamo i passi di danza per poi quella che sarà la presentazione finale dello stage ma allo stesso tempo utilizziamo questi passi per scoprire quali sono i punti deboli e quindi raffinare e lavorarli a livello tecnico Io cerco di accompagnarle per quello che mi è concesso dal tempo e da loro stesse e cerco di dare i consigli utili e concreti per poter affrontare la professione per chi lo desidera Spettacoli, rievocazioni, laboratori e conferenze workshop ben 26 iniziative scandiscono il programma della seconda giornata dell'Arezzo Celtic Festival domani proseguirà l'evento storico che al Parco Pertini della zona Giotto permetterà di vivere un percorso indietro nei secoli tra magia suggestioni e usanze appunto dei popoli antichi attraverso un programma strutturato dell'associazione Cerchio delle Antiche Vie per coinvolgere proprio i visitatori di tutte le età e siamo allo sport oggi sono stati assegnati i numeri appunto che i giocatori a Maranto porteranno nelle spalle quindi le loro maglie il numero 10 sarà di Pattarello Guccione ha invece scelto la maglia numero 7 per il resto i calciatori confermati dalla passata stagione hanno sostanzialmente conservato i numeri del cuore intanto sul fronte del mercato l'Arezzo sta inseguendo il terzino Coccia ormai il suo tesseramento si fa sempre più probabile e come sappiamo la società Maranto è in cerca anche di un nuovo centrocampista intanto domani l'amichevole Arezzo Trastevere si gioca alle 17 allo stadio comunale con ingresso libero l'Arezzo calcio femminile invece ha raggiunto l'accordo con la calciatrice Sofia Lorieri per il rinnovo appunto dell'impegno con la formazione a Maranto fino a giugno 2024 Lorieri si appresta ad iniziare la terza stagione consecutiva in maglia a Maranto ed infine chiudiamo parlando della ginnastica Petrarca in pedana al World Gymnestrada di Amsterdam domenica 30 luglio prenderà in via proprio la più importante e partecipata manifestazione mondiale dedicata appunto alla disciplina della ginnastica per tutti che tra arte e sport propone veri e propri spettacoli con una combinazione di esercizi di ritmica artistica e danza tra questi appunto rientreranno anche le 37 i 37 atleti e atlete della ginnastica Petrarca è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'ascolto e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti